dopo aver visto gli esercizi di riepilogo del calcolo di aree e volumi mediante l'uso dell'integrazione adesso vediamo dedichiamo due video al calcolo della lunghezza di un arco di curva sempre mediante integrazione consideriamo la curva che rappresenta il grafico di una funzione y uguale f di x derivabile in un intervallo a b la lunghezza l dell'arco di una curva per x compreso tra a e b è data da l uguale integrale tra a e b della radice quadrata di 1 più f primo di x al quadrato in dx questa è l'espressione che ci dà appunto la lunghezza tra a e b dell'arco di curva facciamo una figura giusto per capire ma molto semplice sia la scrittura dell'integrale sia il concetto della lunghezza dell'arco siamo tra a e b questa è f di x la lunghezza di tale arco è data dall'integrale scritto l'integrale non lo dimostriamo come detto la funzione deve essere derivabile la scrittura dell'integrale è abbastanza facile vediamo la sua risoluzione che in alcuni casi può essere anche complessa primo esercizio la curva assegnata è y uguale a radice quadrata di x al cubo e si vuole calcolare la lunghezza dell'arco di questa curva compreso tra 0 e 2 quindi x compreso tra 0 e 2 come prima cosa calcoliamo la derivata prima della funzione quindi la funzione ce la riscriviamo come x elevato alla tre mezzi la derivata prima è y primo uguale tre mezzi x elevato a tre mezzi meno due mezzi cioè un mezzo e adesso possiamo scrivere l'integrale lo chiamiamo l e quindi gli estremi di integrazione sono 0 e 2 della radice quadrata di 1 più tre mezzi per x alla un mezzo elevato al quadrato in dx uguale ora riscriviamoci l'integrale svolgendo il quadrato e trasformando la radice in potenza quindi 1 più il quadrato di 3 mezzi è 9 quarti il quadrato di x alla un mezzo è x e tutto questo va elevato alla un mezzo in dx uguale ora se moltiplichiamo la funzione integranda per 9 quarti e quindi l'integrale per 4 noni abbiamo la derivata di quello che è tra parentesi quadre cioè la derivata di 9 quarti x e questo significa che siamo di fronte all'integrale di una funzione composta dove 9 quarti è f primo di x e come detto quello che c'è tra parentesi è f di x sappiamo integrare una funzione composta e questo è uguale a 4 noni che moltiplica 1 più 9 quarti x elevato a un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1 da integrare tra 0 e 2 uguale ora riscriviamo 4 noni un mezzo più 1 e tre mezzi il tre mezzi al denominatore lo portiamo numeratore quindi moltiplichiamo quindi moltiplichiamo 4 noni per due terzi e dentro la parentesi rimane 1 più 9 quarti x elevato a tre mezzi da integrare lasciamo fuori le costanti tra 0 e 2 uguale uguale 4 noni per due terzi e 8 ventisettesimi sostituiamo 2 e otteniamo 1 più 9 quarti x 2 che si semplifica e diventa 9 mezzi elevato alla tre mezzi meno sostituiamo 0 e otteniamo 1 più 0 alla tre mezzi uguale ancora 8 ventisettesimi che moltiplica 1 più 9 mezzi cioè 2 più 9 fratto 2 elevato alla tre mezzi meno 1 uguale uguale 8 20 settesimi che moltiplica 11 mezzi elevato alla tre mezzi meno 1 uguale ancora ora ritrasformo la potenza in radice e quindi 8 20 settesimi che moltiplica la radice di 11 mezzi al cubo moltiplico togliendo le parentesi 8 20 settesimi quindi il primo termine va bene così e il secondo è 8 20 settesimi per uno cioè 8 20 settesimi uguale ora porto fuori dalla radice il quadrato di 11 mezzi che fuori diventa 11 mezzi che moltiplica la radice ancora di 11 mezzi meno 8 20 settesimi uguale semplifichiamo l'8 e il 2 e quindi rimane 4 20 settesimi per 11 e la radice la riscriviamo come radice di 11 fratto radice di 2 che razionalizziamo quindi moltiplichiamo per radice di 2 e dividiamo per radice di 2 meno 8 20 settesimi e questo uguale a ancora riscriviamo tutto 4 20 settesimi radice di 2 per radice di 2 al denominatore è 2 quindi per 11 mezzi per la radice di 11 per la radice di 2 è la radice di 22 e quindi meno 8 20 settesimi uguale semplifichiamo il 2 con il 4 e quindi proseguiamo con il calcolo abbiamo scriviamoci che qui rimane un 2 e anche qui rimaneva un 4 2 per 11 è 22 20 settesimi radice di 22 meno 8 20 settesimi uguale qui possiamo raccogliere a fattor comune un 2 20 settesimi compattiamo il risultato che moltiplica 11 per la radice di 22 meno 4 ora possiamo valutare numericamente anche la misura tenendo conto che la radice di 22 è circa uguale a 4,69 l sarà uguale a 2 20 settesimi cioè 0,074 che moltiplica 11 per 4,69 meno 4 questo ci da un 0,074 per 47,59 vale a dire 3,52 quindi questo è il risultato dell'integrale e 3,52 è l'approssimazione alla seconda cifra decimale vediamo un secondo esercizio la funzione data è y uguale a radice quadrata di x più 1 elevato al cubo e bisogna calcolare la lunghezza dell'arco per x compreso tra meno 1 e 0 visto che dobbiamo scrivere la derivata prima calcoliamoci la derivata prima trasformiamo la funzione da radicale in potenza quindi x più 1 elevato alla tre mezzi funzione molto simile rispetto all'esercizio precedente e calcoliamoci la derivata prima la derivata prima y primo è uguale a tre mezzi per x più 1 elevato a tre mezzi meno 1 quindi a un mezzo per la derivata di x ma x è 1 e quindi questa è la derivata prima la lunghezza dell'arco è uguale all'integrale tra meno 1 e 0 di 1 più tre mezzi per x più 1 alla un mezzo elevato al quadrato tutto sotto radice in dx uguale ora eleviamo al quadrato e otteniamo integrale tra meno 1 e 0 di 1 più 9 quarti che moltiplica x più 1 essendo x più 1 alla un mezzo al quadrato proprio x più 1 questa ce la possiamo anche riscrivere come potenza e quindi eleviamo a un mezzo in dx uguale svolgiamo i calcoli dentro la parentesi otteniamo integrale tra meno 1 e 0 di 1 più 9 quarti più 1 è 9 quarti più 4 quarti quindi 13 quarti e quindi integrale tra meno 1 e 0 di 13 quarti più 9 quarti più 9 quarti x alla un mezzo in dx uguale ora qui come nell'esercizio precedente dobbiamo moltiplicare la funzione integranda per 9 quarti per avere la derivata di 9 quarti x e quindi l'integrale per 4 noni e quindi ora possiamo scrivere la primitiva abbiamo 4 noni che moltiplica 13 quarti più 9 quarti x alla un mezzo più 1 fratto un mezzo più 1 da integrare tra meno 1 e 0 uguale diamo a capo un mezzo più 1 a denominatore che è 3 mezzi lo portiamo a numeratore diventa 2 terzi quindi 4 noni per 2 terzi che moltiplica sostituiamo l'estremo superiore 0 e otteniamo 13 quarti più 9 quarti per 0 che è 0 quindi 13 quarti elevato a 3 mezzi meno sostituiamo meno 1 13 quarti 9 quarti per meno 1 e meno 9 quarti elevato alla 3 mezzi uguale ora 4 noni per 2 terzi e 8 ventisettesimi 13 quarti alla 3 mezzi è la radice quadrata di 13 quarti al quadrato che possiamo scrivere come 13 quarti portando fuori il quadrato di 13 quarti per la radice quadrata di 13 quarti che significa radice di 13 fratto radice di 4 quindi 2 meno 13 quarti meno 9 quarti è 4 quarti quindi è 1 ma 1 alla 3 mezzi è 1 e mettiamo la parentesi uguale questo è uguale moltiplichiamo per 8 ventisettesimi entrambe i termini nelle parentesi e abbiamo 13 per radice di 13 fratto 8 che si semplifica con l'8 dell'8 ventisettesimi meno 8 ventisettesimi uguale 13 ventisettesimi radice di 13 meno 8 ventisettesimi se vogliamo raccogliere a fattor comune un ventisettesimo scriveremo un ventisettesimo che moltiplica 13 radice di 13 meno 8 che moltiplica 13 radice di 13 meno 8 possiamo anche qui valutare il risultato tenendo conto che la radice di 13 è circa uguale a 3,6 abbiamo che la lunghezza dell'arco da calcolare è pari a un ventisettesimo cioè 0,037 che moltiplica 13 per 3,6 meno 8 vale a dire 0,037 per 38,8 uguale a 1,43 quindi qui abbiamo il risultato dell'integrale esatto e la sua valutazione in 1,43 bene, vediamo l'ultimo esercizio per questo video abbiamo la funzione y uguale 1 ottavo x alla quarta più 1 fratto 4x al quadrato dobbiamo calcolare la lunghezza dell'arco di curva quando x è compreso tra 1 e 2 ora riscriviamoci la funzione come 1 ottavo x alla quarta più 1 quarto x alla meno 2 in modo da calcolare agevolmente la derivata prima calcoliamo la derivata prima y primo è uguale a 1 ottavo che moltiplica 4 per x al cubo per quanto riguarda il primo termine più 1 quarto che moltiplica meno 2 per x elevato a meno 2 meno 1 uguale 8 e 4 fa un mezzo meno 2 e 4 fa meno un mezzo e quindi la derivata prima è uguale a un mezzo x al cubo meno 1 fratto 2x al cubo andiamo quindi a scriverci l'integrale la lunghezza dell'arco di curva è data dall'integrale tra 1 e 2 di 1 più un mezzo che moltiplica raccogliamo a fattor comune un mezzo x al cubo meno 1 fratto x al cubo tutto elevato al quadrato e tutto sotto la radice quadrata in dx uguale e quindi integrale tra 1 e 2 di dobbiamo fare il quadrato di quello che abbiamo tra parentesi quindi 1 più un quarto che moltiplica x alla sesta il quadrato di x al cubo meno 2 per x al cubo per 1 fratto x al cubo che rimane 2 che è il doppio prodotto più 1 fratto x alla sesta che è il quadrato di 1 fratto x al cubo tutto sotto la radice in dx uguale andiamo a capo e scriviamo ancora uguale integrale tra 1 e 2 di 1 più moltiplichiamo abbiamo un quarto x alla sesta meno un quarto per 2 è un mezzo più 1 fratto 4x alla sesta tutto sotto la radice in dx uguale uguale ancora integrale tra 1 e 2 di facciamo ora il minimo comune multiplo utilizzando tutti i termini sotto la radice il minimo comune multiplo è 4x alla sesta 4x alla sesta per 1 4x alla sesta 4x alla sesta diviso 4 è x alla sesta per x alla sesta è x alla 12 e poi meno 4x alla sesta diviso 2 è 2x alla sesta per 1 2x alla sesta e poi più 4x alla sesta diviso 4x alla sesta è 1 e quindi qui rimane 1 tutto sotto la radice di x uguale sommiamo i termini simili e ordiniamo secondo le potenze decrescenti di x quindi integrale tra 1 e 2 di x alla 12 4x alla sesta meno 2x alla sesta è più 2x alla sesta più 1 fratto 4x alla sesta sotto radice in dx uguale continuiamo sulla stessa riga ci accorgiamo che abbiamo a numeratore il quadrato di un binomio infatti abbiamo un termine al quadrato che è x alla 12 ed è esattamente il quadrato di x alla sesta un altro termine al quadrato che è 1 e che è chiaramente il quadrato di 1 e poi abbiamo il doppio prodotto tra x alla sesta e 1 che è 2x alla sesta e quindi possiamo scrivere la funzione integranda come x alla sesta più 1 al quadrato fratto 4x alla sesta tutto sotto radice in dx uguale ora l'integrale si è notevolmente semplificato perché possiamo semplificare appunto la radice con quello che abbiamo sotto e quindi un mezzo la radice quadrata di x alla sesta più 1 al quadrato è x alla sesta più 1 la radice quadrata di 4 è 2 la radice quadrata di x alla sesta è x alla terza in dx uguale riscriviamoci la funzione integranda dividendo la frazione quindi abbiamo un x alla sesta facciamo tutti i passaggi fratto 2x al cubo più 1 fratto 2x al cubo in dx semplifichiamo x alla terza e x alla sesta e rimane x alla terza fratto 2 e quindi per semplicità possiamo scriverci due integrali integrale tra 1 a 2 il primo con un mezzo fuori dal segno di integrazione di x al cubo in dx e poi l'integrale con ancora un mezzo fuori dall'integrale di 1 fratto x al cubo che posso scrivermi come x alla meno 3 e questa è da integrare tra 1 e 2 in dx uguale scriviamoci le primitive e quindi abbiamo un mezzo per un quarto x alla quarta da integrare tra 1 e 2 per il primo integrale più un mezzo che moltiplica x alla meno 3 più 1 fratto meno 3 più 1 da integrare anche questo tra 1 e 2 uguale un ottavo che moltiplica 2 alla quarta meno 1 per quanto riguarda il primo termine quindi 15 visto che 2 alla quarta è 16 meno 1 è 15 e qui abbiamo meno 3 più 2 al denominatore che è meno 2 e quindi meno un quarto per x alla meno 2 da integrare tra 1 e 2 ma x alla meno 2 possiamo scriverlo come 1 fratto x al quadrato da integrare tra 1 e 2 uguale uguale 15 ottavi meno un quarto che moltiplica un quarto quando sostituiamo 2 meno 1 quando sostituiamo 1 quindi ora un quarto meno 1 è meno 3 quarti e quindi possiamo riscrivere 15 ottavi meno un quarto per meno 3 quarti e questo è uguale a 15 ottavi più 3 sedicesimi minimo comune multiplo 16 abbiamo 30 per quanto riguarda il primo termine più 3 e quindi il risultato dell'integrale e la lunghezza della curva è 33 sedicesimi che è approssimato da un 2.06 2,06 quindi questo è il risultato dell'integrale esatto e questo il suo valore è approssimato bene per questo video finiamo qui in basso a destra trovate il tasto per iscrivervi al canale attivate la campanellina in modo da essere aggiornati automaticamente sulla pubblicazione dei prossimi video se il video vi è piaciuto e soprattutto se vi è stato utile mettetevi anche un like e vi ringrazio condividete sui vostri social così che potremo aiutare più persone possibili e anche far crescere il canale perché no in descrizione i miei contatti mail, instagram, facebook grazie un saluto a tutti e alla prossima